Ricordando quanto abbia pesato sulla sua scarcerazione la pressione dell'opinione pubblica italiana, Patrick Zaki si augura una mobilitazione analoga a favore di Ilaria Salis, la 38enne detenuta da un anno in Ungheria, così come spera che il governo Meloni intervenga con un adeguato sostegno legale. A Venezia è la prima uscita pubblica dello studioso egiziano arrestato all'aeroporto del Cairo in un periodo in cui frequentava un master universitario a Bologna, con una serie di accuse che andavano dalla minaccia alla sicurezza nazionale alla diffusione di notizie false e poi detenuto per oltre un anno e mezzo nelle carceri del discusso per usare un eufemismo regime di Alsisi. Passerò il resto della vita a cercare di superare tutto quello che ho patito nel mio periodo di detenzione, ci dice Patrick Zaki, che è a Venezia per la Venice School for Human Rights Defenders, una settimana di formazione intensiva per chi è attivo nella promozione dei diritti umani, organizzata in collaborazione con il Parlamento europeo dal Global Campus of Human Rights, un network internazionale di università con sede al Lido di Venezia. Accanto a lui Mansure Sojae, attivista, ricercatrice e scrittrice iraniana, anche lei è incarcerata nel suo paese, che ha dedicato la vita alla difesa dei diritti umani e delle donne, due cose profondamente legate e imprescindibili l'una all'altra, dice. Now, we have a new geography.